musica 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 sono molto felice hai sentito parlare di me? musica è venuto nel mondo reale musica 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 scordatevi di me pensate a fermare le fattorie industriali dobbiamo liberare Morpheus si trova lì dentro? musica 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 scusatevi musica 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 giorno. Tutto ciò per sfamare la nostra nazione fast food. Delizioso, non è vero? Ma i vostri lavoratori si frediscono. Grazie al vostro forno è bisogno di velocità. È un gioco che si chiama Profitto Morpheus. La velocità ha il suo prezzo. Il battatoio è il lavoro più pericoloso del paese. Ma proprio come lei, caro amico, anche i nostri lavoratori sono trascurabili. Il nastro si muove a tale velocità da far finire gli escrementi da tutte le parti, facendoli fuori uscire dagli intestini direttamente sulla carne. Cosa vuole che sia qualche batterio coliforme tra amici? Ad ogni modo, è ora di salutarci, signor Morpheus. Salve. Ferma quel nastro, cittadino. Subito. Grazie ragazzi.